Ti interessa tanto veramente? Tanto da prestarti a questo? È enorme per una donna. Per una donna qualunque? No, per tutte, cara, su questo punto. È un'abnegazione. Gliela credo. Non mentire. Tu sai di non abilirti. E allora? Che abnegazione? Quanto basta per non abilire te, agli occhi degli altri, ma per offendere me. Ma chi è che pensarà poi in questo momento?